Continua la protesta sotto ai portici del comune di Piacenza. Undici profughi della Libia sono stati lasciati senza una casa nella totale indifferenza quanto afferma dal suo megafono Salisugrami, portavoce nigeriano del gruppo di africani tuttora accampato in Piazza Cavalli dove ha trascorso l'intera notte. La protesta è presidiata dalle forze dell'ordine. Siamo qua veramente disperati, quasi disperati senza nessun aiuto. tre anni che stiamo soffrendo, stiamo cercando di cambiare la nostra vita. Alcuni di noi hanno avuto le case, le case che sono vuote, abbiamo fatto tutto per entrare per non rimanere a strada, ma le case sono quasi vuote. Le case sono vuote? Quasi, ho detto quasi, quindi non c'è l'arredamento dignitoso. Allora, alcuni di noi non hanno la casa, non hanno avuto questo tetto. Quindi noi come fratelli siamo qua lottando per loro.